Manzokic Ammetto che la cosa mi ha spiazzato Mi ha spiazzato perché non pensavo più che il Milan cercasse una punta Cioè, è vero che negli ultimi giorni si è parlato di Pavoletti, si è parlato di altri nomi Però, cioè, so quei nomi che escono per riempire un po' così i siti, i giornali Ma non ho mai pensato che ci fosse effettivamente qualcosa per Pavoletti Magari il procuratore ha fatto uscire il nome così per creare un po' di hype Però non ci ho creduto fin dall'inizio Ecco, però qualcuno diceva, ma se cercano Pavoletti, se parlano con la gente di Pavoletti Vuol dire che stanno cercando una punta Vuol dire che il discorso attaccante non è tramontato Però, così, non ci credevo Ero convinto, sì, che si parlasse di Meite, si parlasse del difensore centrale Siman Khan, è uscito anche Tomori Però, diciamo, lì, basta Arriva il centrale, arriva il centrocampista Forse arriva il terzino se riescono a piazzare i conti alla Fiorentina Ma basta, cioè, non credevo più nella punta E poi, ieri sera, arriva Di Marzio Così Così, cioè, dice Devo, devo C'è una cosa sul Milan Abbastanza interessante Ma aspetto conferme Tempo 5 minuti E spara Milan Vicino a Mandzukic Ho parlato con il procuratore Criscitello ha addirittura parlato di firme imminenti Ora, io non credo che il Milan sia alle firme con Mandzukic Cioè, non credo che Mandzukic sia così vicino Al punto da firmare Però, se la voce esce in maniera così prepotente Vuol dire che qualcosa c'è E vuol dire che il Milan effettivamente sta valutando L'ipotesi di firmare Mario Mandzukic Si parla, così, di un contratto di sei mesi Si parla di un ruolo, tra virgolette, secondario Perché Mandzukic, che era stato proposto anche Ad altre squadre italiane come il Parma Per dirne una Accetterebbe anche il ruolo di punta, di scorta Il ruolo di vice Ibra Senza creare casini, eccetera, eccetera Quindi il Milan, prendendolo solo per sei mesi E con il giocatore che accetta sto ruolo Sta seriamente valutando la cosa Ora Io, se dovessi dare un giudizio Sul Mario Mandzukic che ho sempre conosciuto Lo andrei a prendere io All'aeroporto Perché è un giocatore che mi è sempre piaciuto Tantissimo Mi piaceva il Bayern Monaco Mi piaceva la Juve E' vero che è il classico giocatore Che se ce l'hai nella tua squadra lo ami E se ce l'hai da avversario Gli tireresti volentieri un cazzotto in faccia Però non ho mai potuto Cioè, ho sempre ammirato, ecco, il suo modo di stare in campo Il classico proprio attaccante da grandi occasioni Giocatore proprio di carattere Esperto, fisicamente fortissimo Che alla Juventus ha anche imparato a fare più ruoli Quindi è anche un giocatore molto intelligente sotto quel punto di vista Quindi è chiaro Se mi dicessero Vuoi il Mandzukic della Juve Cazzo, lo prendo domani mattina Vado a prenderlo io all'aeroporto Il problema è Che Mandzukic stiamo prendendo O che Mandzukic sta per arrivare Non so più che cosa dire Effettivamente non so Sta per arrivare Mettiamo che sta per arrivare Cioè, che giocatore è? Cioè, è un giocatore che ormai Non gioca da tanto tempo È un giocatore in lago gli anni E quindi Non so effettivamente come valutarlo Cioè, ormai è da mesi Che questo non scende più in campo Non ha giocato neanche più Nella Lega Araba E mi dicono Viene al Milan per sei mesi E dico Ah, cazzo Cioè, però ma in che condizioni è però? Io vi dico Se è il Mandzukic Il Mandzukic della Juve O una versione anche lontanamente vicina A quel Mandzukic lì Come attaccante al posto di Lorenzo Colombo Lo prendo comunque Ci mancherebbe Alla fine Parliamo di un giocatore Che deve Entrare nella rosa del Milan In punta di piedi Deve fare praticamente Il secondo barra Terzo attaccante Di riserva E il modo per non Vedere più Rebic in attacco E lasciare finalmente Rebic e Leao Sulle ali E giocare solo O con Ibra O con Mandzukic C'è di base Quello Quindi è un giocatore Che vedrà il campo Soltanto per far rifiatare La rosa Visto che si avvicina All'Europa League Si avvicina alla Coppa Dice Aggiungiamo un Mandzukic Che comunque Rispetto a Colombo Sicuramente in questi sei mesi Ti può dare qualcosa Ora Se l'idea di base è questa L'operazione secondo me Ci sta Però Mandzukic Deve esserne consapevole Questo è quello che dico Cioè Se Mandzukic Che non gioca da otto mesi Nella Lega Araba Pretende di venire al Milan Per creare casini Per giocare Perché comunque Il giocatore È quello Parliamoci chiaro Cioè È un giocatore anche Caratterialmente Molto forte Che ha sempre voluto Fare il titolare E che Se dovesse venire Con quest'idea Secondo me Rischiamo di metterci Dei casini in casa Cioè È quello il discorso Cioè Se Mandzukic Mentalmente È pronto Ad accettare Questo ruolo Da underdog Va bene A prescindere Da come stia Anche se L'icona Sulla forma fisica Visto che non gioca Da otto mesi È sempre giusto Tenerla aperta Però Faccio il recappone Giusto per capire Se Lui accetta Questo ruolo Da riserva Se è in condizioni Anche lontanamente Accettabili E se E se Mentalmente Disposto Tra virgolette A rimettersi In gioco E a dare Una mano A questo gruppo Raga Lo prendo Mandzukic È chiaro che lo prendo Mandzukic Però La cosa che Fa E la cosa che fa Più ben sperare Al di là dell'acquisto Di Mandzukic Al di là di tutto È che Comunque Cioè Un arrivo Di questo tipo Vuol dire Che Vuol dire Che la Società Ha capito Che questa È una stagione Da sfruttare Cioè Loro Dicono Camiseria Siamo primi In classifica Siamo in corsa Ancora per tutti I nostri obiettivi Siamo ancora In Europa Siamo andati Avanti in Coppa Italia Ma sarà il caso Di Aggiungere Un po' Di Di dire Gente Che sa Come si vince In questo organico E che quindi In determinati momenti Può anche Darci una mano Mandzukic Nella speranza Che non sia ridotto Come Vidal O come altri Tipo Altri pacchi Che sono arrivati Quest'anno Però Cioè Ripeto Se Mandzukic È anche solo Lontanamente Ai livelli Suoi Se anche Un Se anche Un terzo Di quello Che è stato Il vero Mandzukic Mi sta bene Mi sta bene Boh E adesso Vediamo 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 se arriverà Vediamo cosa faranno Vediamo se La cosa Andrà in porto Però Una cosa è certa Cioè con Ibra e Mandzukic Di sicuro Non sarà più possibile Scatenare il risse In campo Perché almeno Sotto quel punto di vista Credo che saremmo Molto coperti Però Vabbè Insomma Vediamo Vediamo un po' Ragazzi Niente Io vi saluto Vi rinnovo L'appuntamento A dei prossimi video Vi invito A cliccare i link In descrizione Perché potete trovare Instagram Trovate Twitter Gruppo Facebook Link Paypal Qualora voleste Sostenere il canale Vi invito a mettere un like Ad iscrivervi E niente Ci vediamo In un prossimo video Chissà come finirà